Siamo nel castello di Tore Maggiore, è un luogo simbolico, quello del Consiglio Comunale. Il primo a candidarsi, il primo a esporsi politicamente, Pasquale Monteleone, ricordiamo per un soffio al ballottaggio nella scorsa tornata elettorale qui nella città del castello dei De Sangro. Bene, parte questa campagna elettorale, sarà una dura battaglia, ricordiamo a fine primavera ancora non ci sono le date, si voterà. Sì, noi abbiamo inteso rimettere la faccia per diverse ragioni. Innanzitutto, uno dei punti di forza che riteniamo avere nel nostro progetto è quello di essere un progetto coeso che mette insieme, che si fonda su un patto tra persone. Infatti, abbiamo inteso scegliere il nostro cammino di denominarlo innanzitutto Tore Maggiore, perché significasse alla città innanzitutto che è un progetto fortemente identitario, cioè che tiene insieme le energie positive della nostra città, perché fosse scevro da valutazioni, da scelte fuori dei confini della nostra città, perché uno dei problemi che abbiamo ravvisato in questi anni è che spesso ci sono nati dei progetti politici non omogenei, che non avessero una comune visione sulle criticità e su come risolverle, perché appunto scelte in segreterie e in ambiti fuori dal nostro comune. Quindi il nostro progetto innanzitutto Tore Maggiore pone al centro le persone. Chiaramente numerose sono le priorità che attanagliano la nostra comunità. Sicuramente in primis il nostro impegno va nella direzione di una maggiore e più forte legalità, una legalità che certamente deve caratterizzare non solo le strade della nostra città, ma anche la gestione della cosa pubblica. Questo è un tema cruciale su cui io mi sento di mettere la faccia per la mia storia e la mia esperienza di questi anni. Naturalmente le priorità sono diverse e su questo elaboreremo un programma costruttivo. Infatti noi non parleremo di promesse, ma di impegni da prendere con la città. Io stesso in questi anni mi sono molto dibattuto su questo ambito e ho sempre detto alla città e ai miei elettori, e lo dico anche ai miei futuri potenziali e nuovi elettori, che l'unico impegno che possiamo prendere con Tore Maggiore è quello di essere seri nella gestione della cosa pubblica.